Un sit-in a Colle Maggio organizzato dal gruppo consigliere comunale L'Aquila Coraggiosa per dire no alla casa di comunità collocata presso l'ospedale San Salvatore. L'Aquila Coraggiosa chiede invece che la casa sia collocata nell'area di Colle Maggio. Lo scopo della struttura infatti è proprio quello di decongestionare l'ospedale e offrire servizi di prossimità. Con la collocazione al San Salvatore si andrebbe a coprire solo la zona ovest. Una scelta che per i protagonisti del sit-in sembra più dettata da questioni economiche e più attenta alle esigenze dell'ospedale piuttosto che a quelle dei cittadini aquilani. Una questione che il gruppo porterà fuori dentro il Consiglio Comunale per dire no a questa scelta e contrastarla in tutti i modi. Tante le persone che si sono raccolte pian piano a Colle Maggio, anche semplici cittadini sensibili ai temi della salute. La collocazione di Colle Maggio rispetta assolutamente i termini del decreto ministeriale numero 77 2022 dentro il quale è stato concepito il nuovo funzionamento delle case di comunità. Questa è una zona destinata ad attività sanitarie. Collocare la casa di comunità dentro l'ospedale San Salvatore, peraltro struttura già al collasso, significa violare completamente il dettato del decreto ministeriale. Qui una casa di comunità potrebbe assolvere alla funzione di territorializzare i servizi, deflazionare tutto il carico sull'ospedale, assicurare quel principio di reperibilità, facile raggiungimento della struttura e soprattutto consentire alle cittadine e ai cittadini di avere un luogo alternativo dove anticipare quella richiesta di cura come previsto dallo spirito della legge. Questo è l'unico luogo in cui è pensabile, perché rispetterebbe il criterio di territorialità di tutta una città. una casa di comunità dentro l'ospedale significa lasciare priva tutta l'Aquila Est di questo tipo di servizi. A noi preoccupa questa scelta enormemente e la contrasteremo fino alla fine, perché il sindaco deve sapere, in quanto primo responsabile della salute di questa comunità, che non può permettere, non può accondiscendere a questa decisione.